Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo ai fondi destinati a Gela nell'ambito del patto per la Sicilia. In città arriveranno 91 milioni di euro. La CGL si appella al buonsenso del ceto politico amministrativo che in fase di appalto e relativa a giudicazione dovrebbe inserire una clausola sociale di salvaguardia per i lavoratori del territorio che da decenni sono disoccupati. 91 milioni di euro arriveranno a Gela dal patto per la Sicilia firmato qualche settimana dietro ad Agrigento dal premier Matteo Renzi, altri 21 sono destinati a Mussomeli. Non accade né ogni mese né ogni anno di avere la possibilità di realizzare opere pubbliche. Ci auguriamo strategiche per una provincia dimenticata da decenni che senza la costruzione della Caltanissetta Agrigento potremmo definirla al dopo precipizio, cosa ben più grave dell'orlo del precipizio. Lo dicono Ignazio Giudice, segretario generale della CGL e Franco Cosca, segretario della Fillea CGL, i quali si appellano al buonsenso del ceto politico amministrativo che in fase di appalto e relativa a giudicazione dovrebbe inserire una clausola sociale di salvaguardia per i lavoratori del territorio che da decenni sono disoccupati. La politica ci ha abituato agli annunci invece i lavoratori cittadini soprattutto i disoccupati e le disoccupate aspirano a fatti concreti. I fatti concreti possono arrivare in Sicilia in questo caso per esempio in provincia di Caltanissetta attraverso questo mega finanziamento di 121 milioni tra Gela e Mussomeli, 91 a Gela e 21 a Mussomeli in infrastrutture. Le infrastrutture creano sviluppo, creano un indotto, possono dare occupazione anche a tanti architetti, geometri, geologi, ingegneri, oltre a tanti carpentieri, manovale, manovratori. Noi abbiamo proposto che i disoccupati di lunga durata possono avere una priorità assoluta su tutti e soprattutto i lavoratori del territorio. Quindi noi pensiamo di incontrare la presenza alla Regione e soprattutto ai sindaci interessati alle opere pubbliche da appaltare ed inserire nel patto per la Sicilia per fare avere una priorità ai disoccupati che sono privi di reddito e che quindi sono disperati. Grave atto intimidatorio la scorsa notte a Gela. Mani sconosciute hanno sparato tre colpi di pistola contro la vetrina del panificio L'Arte del Pane di via Settefarine. L'episodio si è registrato intorno alle tre. Sono stati gli stessi titolari questa mattina ad accorgersi dei fori sulla vetrina. Indagini sono state avviate dai carabinieri. E torniamo ad occuparci dell'inchiesta che interessa la gestione e lo smaltimento dei rifiuti a Gela dopo il brizzo eseguito ieri dalla Guardia di Finanza. Documenti e personal computer sequestrati sono finiti sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. La Tecra, la società che gestisce il servizio, resta a disposizione di istituzioni, autorità e forze dell'ordine per ogni opportuno chiarimento certa della bontà del proprio agire. Guardia di Finanza lavoro al fine di seminare i documenti e i computer requisitieri nell'ambito del brizzo eseguito per far luce sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Gela. Le fiamme gialle dirette dal comandante Massimo De Vito stanno accuratamente controllando il materiale sequestrato negli uffici della Tecra la società campana che dal 2013 gestisce il servizio in città. Documenti e personal computer sono stati prelevati anche al comune nelle abitazioni di alcuni amministratori e nella sede del lato CL2. Si scava nella gestione dell'appalto. Al momento attuale sono due le persone iscritte nel libro degli indagati. Si tratta di uno funzionario della ditta, Antonio Balestreri, 63 anni, ritenuto l'amministratore di fatto e di un impiegato comunale, Giuseppe Encardona, di 57 anni, in servizio nell'assessorato all'ambiente. L'accusa è di frode in pubbliche forniture. L'indagine è coordinata dalla procura di Gela, diretta da Fernando Asaro. Sono state tantissime le denunce giunte al Palazzo di Giustizia e in più di un'occasione, durante i lavori del Consiglio Comunale, non sono mancati accuse e veleni. Una vicenda quella legata proprio alla gestione dei rifiuti che ha creato numerosi debiti fuori bilancio. Intanto, in una nota stampa, l'azienda Tecra Servizi SRL esprime la massima serenità e fiducia nella magistratura dopo il controllo avvenuto ieri mattina presso i propri uffici da parte della Guardia di Finanza. Alessio Balestreri, a capo della Holding, che comprende diverse aziende, tra cui Tecra, sottolinea che la diffusione di voci infondate ed incontrollate non può scalfire anni di lavoro effettuati con passione, professionalità ed esperienza al servizio dell'ambiente e del cittadino, nel massimo rispetto delle normative vigenti. La Tecra, inoltre, precisa che per la gestione del servizio a Gela sono già stati effettuati tutti i controlli necessari e non lesina costanti monitoraggi interni per verificare il corretto andamento delle attività nei termini di legge. Per questi motivi, l'azienda resta a disposizione di istituzioni, autorità e forze dell'ordine per ogni opportuno chiarimento, certa della bontà del proprio agire. Nel frattempo, Tecra continuerà ad operare e a svolgere al meglio l'attività consapevoli di rendere un servizio alle generazioni future. Domani alle 9.30, nell'Aula Moscato del Palazzo di Giustizia di Gela, si svolgerà la cerimonia conclusiva del progetto di alternanza scuola-lavoro condotto dal liceo classico e dall'Ordine degli Avvocati. Sarà l'occasione per presentare i corsi per l'anno scolastico 2016-2017. Parteciperanno il presidente del Tribunale, Paolo Fiore, il dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri, il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Ignazio Emmolo, ed ancora gli avvocati e gli alunni che sono stati i protagonisti del percorso di alternanza scuola-lavoro. Un giorno da poliziotto e questo è il titolo di un'iniziativa che ha visto coinvolti i bambini delle classi quinte del secondo circolo di Niscemi, palessi Don Milani e Mario Gori, che hanno vissuto un'insolita esperienza con i poliziotti del commissariato nisce-mese, accompagnati dalle insegnanti e dal dirigente scolastico Franco Ferrara e dai volontari dell'associazione L'Aquilone, 100 bambini sono stati accolti in due gruppi dai poliziotti diretti da Andrea Monaco. Hanno avuto modo di conoscere anche la sala operativa, gli apparati radio e i vari sistemi di videosorveglianza urbana che permettono il controllo del territorio. Infine hanno visitato i locali della polizia scientifica dove hanno visto le attrezzature utilizzate nella scena del crimine e gli strumenti di acquisizione delle impronte e conosciuto le diverse attività svolte a supporto delle varie articolazioni del commissariato, quali la polizia giudiziaria, l'ufficio immigrazione e la UIGOS. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto percorsi di crescita nella legalità promosso dalla associazione L'Aquilone per il nono anno consecutivo nelle scuole primarie e medie di Niscemi. A forza di fare proclami ci si è dimenticati la normalità del vivere. L'amministrazione è così focalizzata sugli incontri in giro per l'Italia che ha dimenticato che questa rimane è una grande città fatta di persone che vogliono servizi normali senza dover invidiare il resto del mondo. Il Parco Urbano di Montelungo rappresenta una delle grandi scommesse di questa città. È il pensiero del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Il Parco Urbano di Montelungo, dicono i pentastellati, è un luogo ordinario con un potere straordinario, un posto che in una città normale sarebbe centro di incontri ma che gela e utile a fare proclami senza realizzare progetti concreti. Anche l'amministrazione messinese, rincarano i grillini, non si smentisce, priva com'è di quel minimo di progettualità che dovrebbe contraddistinguere l'agire amministrativo. La Giunta non ha pensato in alcun modo a rendere vivibile il Parco e la città che gli vive a ridosso. Unica soluzione della Giunta è un'ordinanza che vieta di frequentare l'area del Parco perché ci sono i cani randaggi, in pratica un segnale di resa, anziché trovare una soluzione, meglio lasciare l'aria nel degrado. Noi, dice il Movimento 5 Stelle, non ci siamo dimenticati della battaglia fatta dalle associazioni e dai cittadini. Noi vogliamo che quelle battaglie diventino atti concreti, vogliamo che il Parco diventi fruibile alla città con atti amministrativi seri e duraturi. A partire da un regolamento che ne disciplini l'utilizzo e da un progetto amministrativo che ne preveda lo sviluppo nel rispetto del regolamento. Per questo, di fronte alla silenzio dell'amministrazione, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione che ha la finalità di impegnare il sindaco a recuperare il Parco e il Consiglio Comunale ad approvare un regolamento per disciplinarne l'uso. La strada da seguire è quella del lavoro per la città, un lavoro diversificato che non sia solo mirato a parlare di industria ma che consideri Gela, continuano i grillini, una città del mondo che del mondo vuole i normali diritti del vivere civile. La CGL di Gela informa i cittadini, i lavoratori e pensionati che è possibile usufruire dei servizi erogati di patronato e caffa anche il sabato mattina presso la sede di Via Pitagora 19. È possibile verificare la pensione e inoltrare la diffida per l'adeguamento. Un campo scuola dedicato a tutte le persone che soffrono di diabete, ai loro familiari e ai loro amici. È organizzato dall'ADE, associazione diabetici Eschilo preseduta da Giuseppe Curatolo. Si terrà da domani a domenica 16 ottobre presso il villaggio turistico Sicania Resort. Gli incontri inizieranno domani alle 16.30 e termineranno domenica alle 17.30. Diversi gli esperti in funzione di docenti per le singole competenze che prenderanno parte alla tre giorni di incontri. Chi è interessato a partecipare può farlo chiamando il 393-3748-604. Presentato presso la Questura Nissè nel calendario realizzato dalla sezione di Caltanissetta della IPD, Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down. Un'edizione questa in collaborazione con la Polizia di Stato. Il primo calendario invece aveva coinvolto il mondo dello sport ed in particolare la Nissè Rugby, la seconda edizione la Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Carabinieri. Per l'edizione del 2017 sono stati circa 15 ragazzi dai 4 ai 40 anni impegnati negli scatti. Un'iniziativa questa che si inserisce tra le diverse attività svolte dalla sezione nissena dell'Associazione nata in città nel 2005. Per noi sono importantissime. Quest'anno rinnoviamo questa bellissima tradizione di incontro con l'Associazione per i portatori di sindrome di Down perché un momento di vicinanza della Polizia di Stato a questa categoria di soggetti sono un pochettino più svantaggiati e serve anche per aprire verso la cittadinanza per migliorare quelli che sono i rapporti di socialità che le persone dovrebbero avere, che bisognerebbe avere con queste persone che sono portatori di questa malattia. Quindi questa iniziativa serve veramente ad avvicinare e ci arricchisce tantissimo peraltro perché sono dei soggetti che a noi ci hanno tanto affetto, tanto entusiasmo e sono delle persone eccezionali. Siamo riusciti a fare la presentazione del calendario con l'ausilio della Questura nella loro sede che per noi è motivo di orgoglio perché comunque abbiamo già ricevuto la loro collaborazione per poter effettuare le fotografie e oggi ci ospitano anche per poterlo presentare in una sede istituzionale importante come quella della Questura. Quindi sicuramente abbiamo raggiunto anche un grande obiettivo che è quello di una maggiore collaborazione con le nostre forze dell'ordine che ci hanno appunto coadiuvato nella realizzazione di questo bel calendario. Screening dalla vista gratuito a Gela in occasione della giornata mondiale della vista grazie alla sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti Ollus di Caltanissetta che mette a disposizione un oculista e una unità oftalmica. Le visite oculistiche gratuite potranno essere effettuate oggi. L'obiettivo è quello della sensibilizzazione del controllo periodico della salute degli occhi. Appuntamento in Piazza Umberto I dalle 15.30 alle 19.00. Sarà presentato domani alle 18.00 nella biblioteca comunale di Via Butera 1 a Gela il libro Mylan, una verità nascosta di Lorenzo Marotta. L'iniziativa è della libreria Mondatori in collaborazione con il comune di Gela. Fai la cosa giusta. Differenzi ai rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5.00. Depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recesi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Eccoci, seconda parte del telegiornale che apriamo parlando delle reliquie di Santa Rita da Cascia che domani arriveranno a Gela. Anche Gela accoglie le reliquie di Santa Rita da Cascia, tre giorni intensi per i fedeli che venerano la taumaturgica Santa. Il reliquiaro quest'anno sta visitando le chiese dove è presente la devozione alla Santa delle cose impossibili. Il programma gelese è il seguente. Domani, venerdì 14 ottobre alle 17, le reliquie arriveranno nella parocchia Santa Maria di Betlemme in via Albinoni, Angolo Vico, Maria del Monaco. Saranno presenti autorità politiche, civili e militari. Alle 17.30 è prevista la venerazione con canti e coroncina animata dal parroco Emiliano di Mensa. Alle 18.15 Santo Rosario e preghiere della Santa. Alle 18.30 solenne celebrazione eucaristica preseduta dal parroco Giovanni Tandurella. Alle 20 supplica Santa Rita e benedizione delle rose. Il giorno dopo, sabato 15 alle 9, si darà il Santo Rosario e preghiere proprie della Santa. E alle 9.30 la messa con la benedizione delle rose e supplica Santa Rita. Lo stesso giorno le reliquie saranno accolte nella piccola casa della misericordia Istituto Regina Margherita. L'appuntamento è previsto per le 16.30. Seguirà il breve peregrinaggio giubilare verso la chiesa di Sant'Agostino. Alle 18.00 si darà la solenne celebrazione eucaristica preseduta da don Antonino Rivoli, vicario generale della diocesi di Piazza Almerina. E alle 20.30 diventa una veglia di preghiera animata dai giovani che sarà preseduta da donna Lino di Dio, rettore della chiesa. Domenica 16 ottobre alle 9 e alle 11.00 celebrazione eucaristica e alle 11.30 Santo Rosario in onore di Santa Rita e la supplica con il congedo. Dopo ogni funzione liturgica sarà possibile venerare la reliquia della Santa di Cascia, esempio di misericordia e di perdono. Annuale conferenza diocesana del Servizio per la promozione e del sostegno economico alla chiesa si terrà sabato 15 ottobre alle 9.30 nella sala riunioni del Museo Diocesano di Piazza Almerina di fronte alla cattedrale. L'incontro, che sarà preseduto dal Vescovo Monsignore Rosario Cisana, permetterà di comunicare i risultati ottenuti nello scorso anno e di dibattere delle azioni da concordare e da intraprendere. Anche quest'anno la pubblica assistenza Procivis, Protezione Civile di Gela, organizza un corso per soccorritori di livello avanzato per il servizio sulle ambulanze. È possibile recarsi verso la sede di Viosidiana 23 per iscriversi e avere informazioni in merito alla formazione per essere abilitati al servizio di soccorritore sulle ambulanze. Il corso si svolgerà il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21. Sono 40 gli appuntamenti previsti e 75 le ore di tirocinio obbligatorie. Le lezioni saranno tenute da personale medico, paramedico e da soccorritori esperti. Il corso comprenderà lezioni teoriche, pratiche e un periodo di tirocinio. La segreteria della pubblica assistenza Procivis è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20. Per informazioni 093 93 83 12. Educazione cinofila a scuola comincia con un seminario in presenza del medico veterinario addestratore cinofilo Calogero Piscopo, il progetto di educazione cinofila per gli studenti del liceo classico, linguistico e coreutico Ruggero VII. Promosso dalla professoressa Letizia Lovecchio, l'iniziativa, coordinata dalla dirigente dell'istituto Irene Cinzia Maria Collerone, prevede due appuntamenti. Nel corso del primo incontro di mercoledì 12 ottobre dalle 10 alle 12 all'interno dell'aula magna del liceo, sono stati dati degli spunti, momenti di riflessione e insegnamenti sul mondo della cinofilia e sul corretto approccio al cane. Il prossimo incontro invece si svolgerà all'aperto, mercoledì 19 ottobre dalle 11 alle 13. Abbiamo pensato di rivolgere agli studenti una possibilità di riflettere su alcuni temi che sono propri della nostra offerta formativa, quello dell'educazione al rispetto dell'altro. A partire anche da un'esperienza che può essere quella di conoscere le modalità di addestramento o di utilizzo del cane per scopi benevoli e anche che vanno oltre la semplice compagnia, ma che possono essere quelli relativi all'assistenza alle persone disabili, alla pet therapy o tutte le altre situazioni in cui il cane viene in soccorso all'uomo. Perché riteniamo che sia un modo per discutere e negoziare con i ragazzi i significati relativi alla capacità di comunicare che riguarda sia l'uomo e il cane, ma che si estende da uomo a uomo, da persona a persona. Quindi la capacità di un ragazzo di intravedere comportamenti, esigenze, bisogni nell'animale che gli è compagno e amico, può in realtà far riflettere ai ragazzi su come sia importante cogliere i segnali di aiuto, i segnali affettivi, i segnali relazionali anche tra di loro. Questo quindi svilupperebbe l'empatia, che è sicuramente uno degli elementi essenziali, delle qualità umane essenziali, che possono aiutare le persone a superare quei fenomeni di violenza, di sopraffazione, che nelle scuole si manifestano spesso come prepotenza e bullismo. Oggi sono qui all'Iceo Classico in veste di relatore per garantire a questi ragazzi durante queste due ore di seminario a tema educazione cinofila il corretto approccio verso l'animale che ormai ci accompagna da più tempo in assoluto, conferendo loro tante nozioni non solo in termini di educazione cinofila propriamente detta, ma anche in termini di comunicazione, corretto approccio all'animale, il cane urbano, i vari contesti in cui questo stesso animale potrà vivere. Si svolgerà domani alle 9.30 l'ottava edizione Corri nel Parco di Montelungo, promossa dall'associazione Gurina Sport di Giuseppe Veletti. Si tratta di una corsa promozionale ludico-ricreativa che coinvolgerà centinaia di bambini delle scuole con l'intento di promuovere l'attività motoria all'aperto. parte del ricavato delle adesioni sarà devoluto all'UNICEF, saranno presenti anche il Corpo Forestale e la Croce Rossa. Appuntamento col cinema, l'antidoto di Gela, da oggi sarà proiettato il film Go With Me, sono due gli orari della programmazione 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.